Sperito, ho capito, ho capito! La sorta di quest'uomo infelice che muore in solitudine e abbandonato potrebbe essere la mia... la mia regola di vita a questo mi porta. Ho soltanto i nomi, e questo cos'è? Spirito, che posto tremendo! Nel lasciarlo non dimenticherò la lezione. Credetemi, andiamoci! Io ho capito, e se potessi lo farei, ma non ne ho la forza. Spirito, se esiste una sola persona che pianga la morte di quest'uomo, mostratemela, vi prego, vi scongiuro. Siamo rovinati. C'è ancora speranza. Speranza? Solo si è indulgente. Ormai non può più essere indulgente. Lui è morto. Morto? A chi sarà trasferito il nostro debito? Non lo so, ma per allora avremo il denaro, e anche se così non fosse, è difficile che il nuovo creditore sia altrettanto spietato. Stanotte potremo dormire con il cuore leggero, mia cara. Fatemi vedere qualche scena di tenerezza legata a quella morte, o questa camera mi perseguiterà per sempre!